Fiat Fremont, primo video promozionale Vi presentiamo il primo video ufficiale della nuova Fiat Fremont, la miraglia italiana che lancia un nuovo corso nella casa dell'ingotto. La Fiat Fremont si mostra per 80 lunghissimi secondi, dove sfoggia tutte le sue peculiarità e accompagnata da una musica evocativa, la vettura sembra quasi prendere vita ad accogliere lo spettatore nel suo abitacolo. Nel video della Fremont si notano le forme della carrozzeria, gruppi ottici, la grande versatilità degli interni e tanto altro. Sotto il cofano della Fiat Fremont troviamo il 2.0 diesel 4 cilindri multijet da 140 a 170 CV e i clienti potranno scegliere tra due distinti allestimenti, il Fremont e l'Urban. La Fiat Fremont presenta nel suo modello di base il climatizzatore automatico trizona, radiocollettore CDMP3 con comandi al volante, touch screen, cerchi lega da 17 pollici, fari fendinebbia, cruise control, sensore pressione pneumatici. Nell'annestimento Urban invece vengono aggiunti sistema Bluetooth, volante e pomello del cambio in pelle, sensori di parcheggio, sensore luci e vetri posteriori oscurati. Il prezzo di partenza della Fiat Fremont è di 25.700 euro.